Sì, 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 abbiamo fatto la prova con il temporizzatore consigliato da voi. Va bene, ma il tempo va un po' prolungato, perché 10 minuti sono poco. Sì, parla pure, parla vero, perché ti capisco benissimo. Eh sì, la temperatura esterna qui si aggira sempre, da sempre, da 30 gradi. Come? Sì, ma c'è della neve sulla strada, perché c'è il polviscolo. Allora, non è proprio neve, è il polviscolo di neve che entra dentro nel vano motore. Allora, non è proprio neve. 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 Allora, non è proprio neve.